Secondo piano, secondo piano, vai, 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 siete bellissimi ragazzi, questo è il ristorante sul bacino di Massa Lombarda ragazzi, tutto vostro, guardate che bello, ok, c'è una bellissima serata dei single, ecco qua, siamo a Massa Lombarda, ristorante sul bacino, Stefano, Thomas, porta via col tavolo per favore, è qui, qui, lì, di fronte a Maria Grazie. Vieni, appena puoi vieni, cozoi, devi evitarla signora, l'acqua vestito rosso, a lei non fare, capito? No, se non potete entrare in un momento qualcuno, lei non è l'acqua, lasciamo aperto, non so, poi, sì, possiamo fare l'acqua, perché?